è bello sapere che le persone per credito fanno schifo cioè ha fatto più è perché hanno fatto più i giocatori hanno preso più risentivo il village dicendo che era un bel gioco quando è uscito Days Gone faceva schifo diceva ma un me che è a me Resident Evil Village non piace sinceramente cioè se tu scegli tra Days Gone e Resident Evil Village scelgo Days Gone fatto meglio durava tantissimo c'erano tante cose da fare lì finisce la storia e che fai? attacchi al cazzo, fai la capo giusto sì sì ma? ma come? presenta un amico? chi cazzo è? muatelo qua, muatelo qua, muatelo qua muatelo qua, muatelo qua muatelo qua, muatelo qua muatelo qua ma che è? ma che è? ma che è? fai sconiggi oh la fa è finita perca troia è troppo bella oh la fa è finita ma che cazzo ora che riesco un altro invito riesco poi dici perché hai detto in trippa a lei è un po' dove me lo è porca droia si si tira le pistolate sulla cappella si ma io l'ho invitato ma non entra non c'ho voglia ecco oddio c'è Andrea che è negro è perché è perché voi avete quelli basilari se ma aspetta non c'è per caso il personaggio che si prende dal PS Store così a muzzo gratis che c'hanno quello lì bisogna vedere se c'è ancora ah che cazzo ma ne frega che c'è tanto che c'è il gioco a porca ma vabbè scusa se mo ti esce il personaggio della Roma che fai non lo vai a cambiare si lo prendo subito no ma se ti esce adesso in quelli basilari quello della Roma che fai non lo cambi non esce ti preoccupate non esce eh no ma hanno già messo il pupone su qua te lo metteranno a pagamento si si quello si solo quello della Lazio non era a pagamento ma non ce stanno quelli della Lazio è vero c'è quello dell'Intel Milan ah c'è Ciotti guarda con la musica dei Rammstein aspetta ma stiamo facendo assalto all'ora non devi modificare il team a 4 quadrato e fai squadre si è quello space jam ma che è guarda qua a livello 9 Claudio guarda non hai già uscito no boh boh ma quelli bronziani sto là si perché qua su eh perché su Fortnite avevamo messo le bronziani qua su su Fortnite da comprare che modata madonna avevamo messo le bronziani se le è preso è schifo il basket Michael Jordan dal migliore normalmente il migliore era Magic Johnson però no il migliore è Magic Mike chi ha visto il film può capire no cioè che l'anita era un lussoso è tipo Materazzi che andava a fare i falli no tipo come quello tipo come quello tu mi stai 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 spavigli 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 ah scimmia sta a fare un zombie però guarda 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 è modo e boh andiamo sempre qua minchia buono principessa tensione ah col tastino in sotto fate ringraziare l'autista dell'autobus si ecco e perché così tanto a bello ora si è vero non dimono niente ma te l'ho detto no ho detto qua eh ho detto ora mi butto no non l'hai detto e vabbè eh no e vabbè lo vedi sotto l'edda è una favola mia ora ora l'hai detto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma, aiuto. No. Mamma, gliaga. Che cazzo di rumore era? Cecchino, cecchino quello è, che io non uso. Mamma, non è. È qui, è qui. Oh, l'ho indicato. L'ho indicato, l'ho indicato. Qua c'è la... Allora, Claudio, puoi scegliere tra due cecchini. Allora, qua c'è il cecchino quello cannone rotaia. Qua c'è anche il disco di piccoli. Il cecchino normale raffica o il cecchino cannone rotaia? Ne potete scegliere due. Ok. È arrivata. Ma dove cazzo? Perché non mi ce fa entrare? Ma se tu fai il giro del mondo. Ma fa sfono dito. Ecco, fa prima. Ha capito? Fa prima. Ehi, su! Figlio di puttana. Madonna, che disto. Mamma. Tu stai arrivando? Ah. Eeeh, lì dentro. Sotto, sotto. Bravo, Andre. Stalo sotto. Vi faccio vedere anche una cosa, mo'. Tra? Ma ci sei arrivato? Ma io non voglio questo. Sì, ma non voglio questo. Qual è che hai preso? Devi far così. O di là, o di là. Ma alti tringi l'occhiare! Niente. Non mi inginocchio. Vieni un attimo qua con me. Andre, vieni un po' di tu. Vi ricordate la bevanda di... Futurama, no? Mi dite un attimo uncino a sti cosi. Picchiate sti cosi. Sti badini qua così tu slupo. Ti do lo scudo. Aspettate che ce ne stanno altri qua. Eccoli qua, questi, questi. Eccoli qua, questi qua. Questi qua, questi qua. Dovete rompere questi qua. Vi danno lo scudo. Papangool. Uh, 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 uh. Un fucile a bomba, mi sa. Un fucile a pompola. Quanto è lontano il posto? Un chiatete già là in fondo. Visita luoghi diversi, tizio. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. No, in verità è dead che se n'è andato. Io so che cazzo di sfide devo fare. Stanno sparando, dead. Ti stanno sparando addosso. Beh, questo si merita. Non lo vedo più. Ecco, eccolo, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. E qua, sono qua sotto, dead, loro. Eccoli. Stanno sparando a vicino. Ah, stanno sparando a uno. Adesso mi sciottano a me, guarda. È qua sotto, infatti. Preso. Dead, ti stanno eseguendo a te, praticamente. Eccolo. Ma te lo do io se vuoi. Ma che cazzo hanno fatto quelli con la macchina? Un altro è andato. Ma che cazzo? Avessi tutte e quattro. Olè. Sciottati tutti. Oh, fucile è buono. Andiamo qua. Ti faccio questo. Ti metti questo qua. È mo' in quattro mi stanno fissando. In che lanciamissili questo c'aveva? Fa demunition. Spiega. Eh, li ho ammazzati io qua adesso. Spiega. Anche quelli che ammazzo resistono. Sì, in basso, in basso, sopra lo scudo alla vita comunque. Ti danno i cosi. Ah, ok, vabbè, la tempesta è qua, le cosi. Ma entra solo qua dentro. Spiega. Andiamo un po'. E c'è qualcuno. Non vedo nessuno. Andranno un po' di armi quelli. Spiega. Ma si mette a fare i puffi. La, 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 la. Eh, no, infatti mi sono sbagliato. Però io volevo costruire, fate scale strane. Ma che è? Volevo costruire! Ah, c'ho anche da fare la sfida delle costruzioni. È un mono. Che cazzo ho preso? Mi raccoglie metallo, Ted? Vedo che rompi. Ehm, costruisci strutture, incarichi di custom, che è quello che vuole l'arma lui. Ah, c'è una cassa qui. No. Qui. Ehi, carabbi, ah, c'è... Ehi, carabbi, ah, c'è... C'è sta un fucile qua, Andrè. Oh, un fucile da scuola è buono, dalla distanza breve, perché dalla distanza lunga non è che... Fa molto, molto effetto, diciamo. Fa tutto, fa tutto. Però... Qua, qua, vieni, vieni, seguimi. Ma qui è esplodito tutto. Dove sei? Andrè, sono qua dietro. Qua sotto c'è il fucile. Ah, anche questo, anche questo. Ah, no, questo hai preso tu. Ma questo è mio! È suo! Stai esplodendo tutto, Cristo! Ehi, c'è questo! Ecco che Death ci ammassa. Ma è... Ma hai cambiato la suite? Ma sei... Sei blu, viola, mi cazzo è? È blu, dal conico. È blu, eh, c'ho ragione io sul primo. Blu, viola, giallo, rosso, nero. Dove fa? E lui ha dimostrato senza scale di sotto. Ma è senza scale. Se Death, se Death non è... Faceva a spade tutto. Ha mangiato l'arancino, guarda come corre! Ha mangiato l'arancino, guarda come corre! Ma dove siete? Guarda, corre più da te. Guarda, corre più dalla macchina. Ha mangiato l'arancino! Oddio! Ha mangiato l'arancino! No, Death, io so cosa vuoi fare. Oddio, ma guarda come voliamo, eh. Ah no. Devo volarsimo. Eccolo, eccolo, eccolo! Sì, Claudio è sceso. E' buona fobia. Ti è capito, è rimasto lì, Death. Ha sbagliato il pulsante! Ha sbagliato il pulsante! Ah, c'è qua il coso, il boost qua. Ma tu no! E niente, andiamo giù! Ah, Andre, qua c'è quello più forte di quello che hai pensato prima. Cambiato a posto di quello. Qua ci sono anche i cosi. Ci sono i cosi piccoli. Madonna e Cristo! Qua hanno costruito. Hanno costruito, l'hanno distrutto, l'hanno fatto tutto. Alve. C'è nessun giorno di ogni uomo. Questo? No, niente, zero. Sì, siamo qua che ci stiamo a fare i cazzi nostri ogni volta. È così, eh. Cazzo, zombie. Lo stava? No, lo so. Oh, c'è il balestre che lo stiamo parlando, cazzo. Cazzo. Che è successo? Che è successo? Cazzo. Che ha fatto con gli Duff Quanto, sei diventato. Eh sì. Praticamente. Ma non so mi dov'è. Ce l'ha contenta. Lo sapevo io. Ma non so mi dov'è, ce l'ha contenta. Qua! Andre, vieni qua. Cos'è? Ah, il puff puff. La tannica carburante c'è qua. Eh, ma se c'hai spazio puoi riempire la macchina, ma non... Doppie cacciatrici di cola. Sì, ma non è che serva tantissimo quei cosi. Oh! Ma che sei scemo? Ha sparato. Ha sparato Claudio. Mi sono piato un colpo io. Ma che cazzo ti sparo è? È un canone a lotaglia. Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? È veramente un gorilla. È un gorilla, è un gorilla. Qua dentro. Prendete questo, io ce l'ho già. Prendete? Stiamo a giocare tutti. Sì, questo è il mio sangue. Ma qualcuno c'è morto qua. Sì, un attimo. Vengo a spostare la macchina. Vengo a spostare la macchina. Ma con me? Ma non c'è l'aria. Che? Non trovo il... Non trovo mica la musica. Ehi, un attaccio su A. Ma che cazzo è un attaccio? Ma che vandalo. Bang! Sparca troia, autoscontro, ma che? Ecco. È diventato GTA adesso che stai sparando a loro. Sopra là. Ci siamo andati, ci stanno ammazzati. È rimasto in un'inversione. Guarda, guarda, il 4-4-9. Stiamo aprendo le casse. Ah, ah, ah. Stanno sparando da qua? Stanno sparando. Da là in fondo. Da là in fondo. Ho visto... Ho visto dei... Dei colpi di prossimità. Eccoli là. Da là in fondo. Ma d'attento come si sposta subito. Si sposta e se ne va. Andrei, vieni. Claudio, vieni. Claudio! No, un attimo! Ma io, signora, ho le mie cose. Guarda che c'era il posto per lavarsi, anche. Siamo 9-4, siamo 14-15. Canto per me ti viene, ma spegno... Eh, Rocca! Ma che cazzo ne so io, Rocca! Ma guarda che rogge questa! Stava randino e nanna, Mario! Papà! Sunt in survival! Sunt in survival! Ma che? Ma che cazzo è? Marco Dio! Dove c'è il giro? Dove c'è il giro? Dove c'è il giro? Non c'è il giro? Ehi, ti facciamo in duro. Apri! Apri tutti insieme! No, ma paschette? Eh, se poi sì, c'è la Lamborghini là in fondo, se vuoi. Sto tanto a basso il coglia, lì, io sono, c'è finito. Come, la mia vita è cambiata! No, è uguale, eh. Siamo qua, ma qua nessun altro... Vedete, c'è un altro coso davanti che sta spawnando. Stanno sparando? Stanno sparando addosso. Boh, sono via al moro, sono via al moro. Eccoli, 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 eccoli! Porco, eccolo, eccolo! Ma che è? Sono lì al molo, sono al molo. Oddio, che potello! Ma che è? Hai shottato? Si è shottato sì. Stanno sparando, stanno sparando. Beh dietro? Ecco, 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 l'ho visto, l'ho visto. Sono lì in fondo. Ma copiii un attimo dietro qualcosa. Mi manca solo uno. Eh, è quello lì allora. Porco Dio! Ma che? Eccolo. È ucciso, è ucciso. Mostro! Magonna! Dio! Chi ha lì inizia abbastanza facile, però. E diciamo che è più facile un ruo. Grazie a tutti.